Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscovo. Ardiete, evitate ogni polemica e fate in modo d'ascoltare e non replicare se non siete d'accordo. Toro, pretendete troppo e questo si traduce un'immediata insicurezza. Gemelli, giornata particolarmente e molto impegnativa per voi. Cancro, non avrete oggi molte opportunità per distrarvi, sarete fissi sulle vostre cose e sui vostri pensieri. Leone, c'è bisogno di una breve ma efficace riflessione su ciò che state facendo. Vergine, siete nei pensieri di qualcuno che sta pensando di contattarvi e lo farà abbastanza presto. Bilancia, vi renderete conto che tutti gli sforzi fatti ultimamente sono andati persi. Scorpione, Marte e Mercurio possono eventualmente influenzare la vostra giornata rendendola leggermente nervosa. Sagittario, qualcuno che vi sminuisce si ricrederà e dovrà ammettere di essersi sbagliato sul vostro conto. Capricorno, avrete voglia di pace e di silenzio, cercate di restare da soli. Acquario, potrebbero esserci dei momenti di tensione e di tristezza, meglio rimanere soli. pesci, è ancora un periodo di incertezze, dovete tirare fuori tutto il vostro coraggio. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.